La sensazione di un po' di confusione, specialmente credo le ultime partite, ma non parlo da parte del tecnico e base, direi che sono andati un po' in confusione anche i calciatori stessi, perché una partita come quella di Avellino, sentivo volte prima le ultime tre, parliamo delle ultime tre che facciamo prima, quella di Avellino non la puoi giocare un'ora così e poi completamente all'opposto l'ultima mezz'ora. Quindi io penso che i dettami tattici degli allenatori sono importanti, io sento parlare prima di moduli e di cose, però io credo che fondamentalmente in campo ci sono sempre i giocatori, i giocatori devono sapere interpretare la partita anche per il tipo di lavoro che fanno, non è un joystick che ti fa muovere, tu in campo devi metterci anche del tuo, che la partita secondo me quella di Varese è pazzesca perché credo che in generale gli sia stata data poca importanza, sia nell'ambiente proprio della squadra e forse anche tecnica. L'ultima valutazione è questa, che è strano, in casa non siamo andati bene quest'anno, non siamo andati bene nello scorso, non è andato bene il Pescara in Serie A il giorno di ritorno tre anni fa, quindi qualche problema forse ce l'avremo, ma soprattutto abbiamo perso col Brescia, col Varese, col Cittadella e se non mi ricordo che sono le altre che stanno in lotta con l'Atleta, perché con l'Intella abbiamo vinto, ma insomma abbiamo perso i punti, molti punti con le squadre che in questo momento due sono già retrocesse.